Prossimamente in Disney DVD e videocassetta Ritornano le case delle trappole Con tutti gli amici di Mamma per sull'aereo Con Kevin, Harry e Marvel Questa volta si smarrisce a New York Dove incontrano nove e no Tranti lato O di prima Divertimento con Mamma, ho ripreso l'aereo Mi sono smarrito a New York In Disney DVD e videocassetta Prossimamente Prossimamente A presto